lo scontro via social sulla gestione della pandemia ha evidenziato il bisogno di contrapposizione che c'è nella politica italiana la leader di fratelli d'italia spopola nei sondaggi e vuole prendersi tutto l'ex capo della ditta non ha paura dell'impopolarità e presidia i confini della sinistra perché sono un esempio tutto è nato dalla valutazione fatta nel salotto di lilly gruber a otto e mezzo da pier luigi bersani sulla gestione della pandemia da parte del ministro roberto speranza ha detto il capitano della nave che ci ha portato fuori dalla tempesta ma giorgia meloni leader di fratelli d'italia non c'è stata e allora e via social ha risposto speranza quello del coprifuoco insensato del piano pandemico mai attivato dei verbali della task force tenuti nascosti colui che non ha mai ascoltato i medici sulle terapie domiciliari se bersani sta parlando della stessa i persona speriamo che abbandoni la nave al più presto bersani storicamente tignoso ha contro replicato così meloni quella che il coprifuoco alle 23 applicato in mezzo mondo era un sopruso liberticida un guinzaglio messo al collo degli italiani con un capitano così dove sarebbe la nave un asario sconfono proverso da stampare il coratto e la draw 급ic metabole l'esame cilindro